Quando ero cinque anni, ho iniziato a giocare a calcio all'età di sei anni. Giocavamo nei cortili, con i palloni creati da noi, con lo scotch, i giornali. Scendevamo sotto casa, facevamo le porte con le scarpe, le magliette, quello che trovavamo. È molto importante come persona essere più creativa e usare la tua personalità. È fondamentale avere il sostegno della squadra e essere incoraggiato da loro e sentire la loro forza e usarla tutta insieme per vincere. Penso che siano comunque accomunati dalla passione, dalla voglia di lottare, di essere in continua competizione con qualcuno e soprattutto con se stessi. Il progetto di MeGames riunisce un sacco di persone nelle piazze principali e nelle città. Giocare in una piazza piena di gente che ti guarda una partita, secondo me, sarebbe emozionante. Questi tipo di tornazioni sono i migliori. Ho spero che potrò giocare e giocare con te lì.